si 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 1 2 1 2 3 prova 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 voce si 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 1 2 3 prova prova voce forte si 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 concerto rock di musica e voce fortemente rock e quindi questa è tanto stasmo 3 2 3 4 5 6 8 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti